Musica Lunedì 6 gennaio, buongiorno, benvenuti al primo appuntamento con la nostra informazione in regia questa mattina Lucio Felicita come ogni lunedì direttamente sui quotidiani regionali e locali quotidiani regionali che trattano abbondantemente il tema della sanità ma anche chiaramente lo sport con il calcio Tema della sanità che è riportato sul giornale del Molise.it la pagliacciata della staffa regione sulla sanità il centro-sinistra meglio dei Simpson il pezzo è firmato da Pasquale Di Bello Le dichiarazioni che si sono susseguite nella maggioranza dopo la proposta di riorganizzazione sanitaria presentata dall'ASREM evidenziano una crisi politica latente che oggi esplode in tutta la sua evidenza il centro-sinistra alla guida della regione giunge ancora Di Bello su un tema cruciale come quello della sanità appare senza meta e senza costrutto vediamo anche le altre notizie sul giornale del Molise.it scorriamo la home page Marcia della pace, il ringraziamento di Monsignor Bregantini poi c'è la cronaca, faccia a faccia con i ladri in momenti di paura in una villetta di venafro Zuccherificio, bieticoltori esasperati se non arriva il saldo occuperemo la fabbrica e il consiglio regionale hanno detto scorriamo ancora il giornale del Molise iniziative socioculturali della sezione Avis a Santa Croce di Magliano e Roterlo dopo l'accordo tra Fiat e Chrysler i sindacati chiedono risposte anche per lo stabilimento di Termoli andiamo ad Isernia la Befana regala libri ai bambini da Sant'Angelo del Pesco invece un libro il ricordo di un paese distrutto dai nazisti si parla anche della vertenza GAM regione presenta una proposta per il rilancio 25 milioni, ristrutturazione in 16 mesi cassa integrazione e 69 esuberi per l'ITR invece verso un anno di cassa integrazione per 600 dipendenti ancora cronaca furti ai Sernia e Venafro sventati dai carabinieri fioccano le denunce come sempre le notizie dall'Italia e dall'estero andiamo a vedere primo piano Molise in apertura c'è la sanità frattura aspetta proposte dopo le polemiche sull'atto di riorganizzazione dell'ASDREM il governatore apre al dialogo ci sono parametri prestabiliti e obiettivi di bilancio dice non si può avere tutto ovunque ma chi ha idee concrete le avanzi poi si parla della scomparsa dell'ex consigliere generale Gennaro Chierchia se ne è andato un galantuomo ieri l'ultimo saluto politici, studenti e amici si sono stretti alla famiglia dell'ex consigliere regionale i funerali si sono svolti a Campobasso si torna a parlare della marcia della pace il messaggio la pace è affidata alle mani di ognuno di noi il vescovo Bregantini la guerra è inutile strage ci sposiamo adesso a Termoli un corteo in memoria di chi è morto a causa della crisi il comitato 9 dicembre accusa la casta e dice ci fa vivere con l'acqua alla gula la cronaca da Campobasso furto in via Garibaldi inseguiti e arrestati dai carabinieri di Boiano intanto torna l'allarme nell'Isernino colpi nel capoluogo e a Montacuila notizia che arriva dall'Abruzzo l'entella in particolare in chiesa per rubare messi in fuga dai residenti i malviventi avevano forzato il portone e poi il calcio il big match di ieri in Serie D Termoli pari e rabbia in casa della maceratese l'arbitro espelle Fusaro Palumbo e Santoro prova d'orgoglio dei giallorossi di Giacomarro poi Sernia 0-0 a Sulmona Agnone mal di trasferta i Granata sbagliano un penalty e cadono a Pesaro Boiano-Angolana rinviata a causa della pioggia si parla di triangolare di Natale vince il Campobasso raccolti già 800 euro a fine benefico per la palla a canestro invece quarta sconfitta consecutiva per la Sardella Venafro e dall'Abruzzo Poker Marina X Factor Vastese Beffa San Salvo Cupello Sorride chiudiamo primo piano per andare a vedere il quotidiano del Molise eccolo qui vediamo le notizie sotto la testata Dio al prof che amava Dio e la scienza l'ultimo saluto a Gennaro Chierchia e poi si parla della fiaccolata di ieri a Termoli le vittime della crisi sfilano in corteo Bregantini rilancia vicini a GAM e ITR dalla marcia una scossa positiva dice l'Arcivesco di Campobasso e Boiano la salita sul colonnino sulla spalla è bufera sul piano Fusco lo boccia nel PD si litiga ed ora la cronaca da Guglionesi ragazza finisce in ospedale per un post su Facebook mentre da Campobasso ladri maldestri fuggono ma vengono arrestati la solidarietà triangolare di Natale spettacolo allo Sturzo è una notizia di attualità i mobili molisani fanno gula a stranieri facoltosi e poi la grande la grande foto per il calcio Termoli impresa macerata pari in 8 contro 11 i Sernia a buon punto a Sulmona Agnone K.O. Boiano fermato dalla pioggia ricordiamo che ieri i campionati regionali non erano fermi riprenderanno domenica sabato e domenica prossima il calcio a 5 Winni Sernia si giocano la Coppa c'è anche la Molise Cup il calcio rosa partito il trofeo tricolore convince il Riccia dal quotidiano guardo la pagina regionale del tempo del Sannio chiedo scusa poi passeremo sul tempo export bene per il Molise nell'anno appena passato l'alleguro alimentare di qualità si conferma come il settore che subisce meno gli effetti della crisi il prodotto più esportato si conferma il vino con un più 8% seguono l'ortofrutta e l'olio chiudiamo andiamo adesso sui cartace lo facciamo con il tempo la pagina regionale fatture false per succhiare soldi al ministero siamo a Termoli condannati dalla Corte dei Conti i rappresentanti della ex Gilda lavanderia dovranno restituire 3 milioni e mezzo di euro i finanziamenti facevano parte della legge 488 per aiutare le imprese del sud Italia anche qui la foto fiaccolata a lungo le vie del centro in ricordo delle vittime della crisi poi nel colondino sulla destra sempre da Termoli controlli gratis sui gas e la radioattività ci spostiamo a Campobasso le tante rotatorie vicino all'ospedale non piacciono a nessuno a fondo pagina la cronaca rapina in gioielleria caccia al quarto complice si parla della rapina a Boiano mentre a Campobasso farmacie comunali in svendita per fare cassa il prezzo dimezzato dopo la prima asta andata a vuoto è di 1 milione e 200 mila euro abbiamo terminato con i quotidiani regionali adesso passiamo sui nazionali e andiamo a vedere quelli che abbiamo sul touch screen il corriere della sera eccolo qui in alto la foto di Pierluigi Bersani il malore e l'attesa l'ex segretario democratico colpito da emorragia cerebrale un intervento di 4 ore l'ospedale dice l'intervento è tecnicamente riuscito Letta ora vuole un patto chiaro 20 giorni per un accordo di governo con Renzi sulla questione Fassina Matteo come Berlusconi con Monti PD e Forza Italia trattano sul modello elettorale spagnolo il Corriere pubblica anche una foto di Vidalla con Pirlo 3 a 0 due romanisti espulsi Juve implacabile travolge anche i giallorossi in basso il Papa è l'ultimo che diventa primo il segretario della CEI scelto con una procedura che ribalta il parere dei Vescovi chiudiamo il Corriere della Sera andiamo a vedere l'unità che titola Secco Forza Pierluigi Versani operato fino a notte a Parma per una emorragia cerebrale messaggi da tutta Italia da Napolitano a Letta da Renzi a Berlusconi gli auguri delle istituzioni e della politica titolo analogo quello del giornale eccolo qui oggi Forza Bersani dopo il grave malore l'ex leader operato al cervello dopo un'emorragia destra e sinistra unite nell'affetto stavolta scrive il giornale votiamo tutti per lui poi sul caso Fassina Renzi tira dritto e sospetta dimissioni pilotate dai nemici nel partito dal giornale adesso uno sguardo al tempo smog una notizia che riguarda Roma ecco i dati segreti la capitale è oltre ogni limite c'è un dossier record negativo in centro e sulla Tiburtina allarme biossido di azoto cifre shock dal rilevatore di Villa Ada le altre notizie in alto il sindaco i rifiuti romani dice aiutatemi e poi c'è la politica metamorfosi quando Renzi era contrario alle unioni civili dal tempo adesso al mattino il dramma di Bersani ricoverato d'urgenza dopo un'emorragia cerebrale operato per quattro ore la solidarietà da tutti i partiti nel PD si fermano le polemiche insulti sul web bufera sui grillini e poi un fatto di cronaca statale del Vesuvio strage senza fine quattro morti tre ventenni e una madre in un incidente frontale l'arteria già sequestrata dalla magistratura perché pericolosa dal mattino alla gazzetta del mezzogiorno ore drammatiche per Bersani analoga apertura operato a Parma per emorragia cerebrale affetto da tutto il mondo politico Renzi intanto contro Fassina non cambierò dice i miei toni non sono un grigio burocrate passiamo ai quotidiani che abbiamo in cartaceo siamo sulla Repubblica eccola qui la promessa di Saccomanni nel 2014 caleranno le tasse c'è un'intervista al Ministro dell'Economia è l'anno della svolta la ripresa si consoliderà e gli italiani pagheranno meno sulla destra paura per Bersani operato al cervello intervento riuscito andiamo a centropagina PD il caso Fassina riaccende lo scontro Renzi dice non ci si dimette per una battuta questo è il mio stile non sarò mai un grigio burocrate sulla stampa orrore a caselle notizia di cronaca famiglia sterminata sotto torchio il figlio e poi emorragia cerebrale notte d'ansia per Bersani ma l'ora in mattinata l'ex segretario del PD operato a Parma il messaggero emorragia cerebrale ora di paura ore di paura per Bersani e in evidenza in pensione prima con il prestito vediamo un po' assegno per gli anni di anticipo da restituire all'Inps con una decurtazione previdenziale il progetto del ministro del lavoro Giovannini sarà presentato entro gennaio ai sindacati siamo sul sole 24 ore casa a un ingorgo di novità nuove regole per chi acquista chi affitta chi vive in condominio ai cambiamenti in campo fiscale si aggiungono le revisioni normative e il debutto di ulteriori obblighi siamo sulla gazzetta dello sport troppo forti si parla della Juve che spiana la Roma 3 a 0 e ipoteca lo scudetto bianconeri super dominano lo scontro diretto e salgono a più 8 sui rivali in gol Vidal Bonucci e Vucinic su rigore Conte dice li ho studiati e sono stato bravo intanto in alto la Fiorentina va adesso è terza c'è in cubo rossi mondiale a rischio problemi in un infortunio a tepito rossi particolarmente sfortunato bene con il giornale abbiamo concluso ma prima dei saluti la linea alla redazione sportiva per gli E-Lights ed ecco i risultati della prima giornata di ritorno della serie di Girone F Amiternina Matelica 0-1 Ancona Celano 0-0 Boiano Renato Curi rinviata Giuliano Vafano 1-0 Iessina Civitanovese 2-1 Maceratese Termoli 1-1 Renacanatese Fermana 1-1 Sulmone Sernia 0-0 Vispesaro Olimpia Agnonese 1-0 ed ora invece vediamo sempre della serie D la classifica apre Ancona con 40 punti seguita dal Termoli con 34 Matelica e Maceratese 33 Giulianova 32 Vispesaro 32 Iessina 30 Sulmona 29 23 Percelano Fermana e Civitanovese Fanoe Amiternina 21 Recanatese 20 Olimpia Agnonese 17 Isernia 12 Renato Curi 6 e chiude Boiano con 3 punti Al 42 Fontana da ottima posizione va fuori di poco Al 45 Squawk sugli sviluppi di un calcio d'angolo di testa va un filo alto sulla traversa La pioggia ed il vento non hanno permesso a Boiano Renato Curi di scendere in campo per la prima giornata del girone di ritorno Il signor Perrella di Battipaia ha rinviato la gara che verrà recuperata entro 10 giorni Il match si sarebbe dovuto giocare al Colalillo ma senza la presenza del pubblico infatti per motivi di ordine pubblico è stata imposta la gara a porte chiusa È tutto è tutto anche per questo lunedì grazie per averci seguito l'informazione torna alle 14 con il telegiornale Arrivederci Grazie per la visione